ecco maurizio con lino questo è il giocattolino questo è il casino che sta combinando per me è meglio in bici adesso arranca via la pianta arranca via la pianta vediamo un po' cosa fa retromarcia ecco la pianta che se ne va meno una pianta di ciliegie sto filmando tutto ok alla prossima puntata